io cani lo sta porco dio vabbè lo terremo in mano allora buongiorno a tutti agli amici di instagram agli amici di youtube avevo caricato il video con il discorso che avevo fatto di qui di ventura ma siccome c'era la musica youtube me l'ha segato vabbè pace niente perché ho fatto questo perché va in diretta questo video per gli amici di youtube per semplice motivo continuo a sentire offese agli svedesi signori mei gli svedesi non c'entra nulla nulla perché gli svedesi hanno fatto la loro partita hanno fatto quello che dovevamo fare noi quindi se c'era insultare gente va insultato prima di tutto tavecchio perché tavecchio non ha capito un cazzo e maggior ragione chi chi ha messo tavecchio su posto va insultato anche lui perché non ci ha capito più un cazzo degli altri al secondo posto ventura perché perché ventura nonostante che era un traghettatore perché poi dopo si sa che non si può andare a giocare con gli svedesi al gioco alto gioco alto vuol dire tutte palle alte e non palle basse quindi vuol dire che loro sono molto sono molto alti quindi non stiamo parlando di di lanetti o di elfi stiamo parlando di gente che è alta da 1 90 in su quindi andare a fare il gioco delle palle alte con loro è stata una grandissima stronzata punto 2 punto 3 lasciando stare i giocatori che ci hanno messo la faccia che si sono anche diciamo scusati diciamo un sacco di cose che potrebbe essere buffon potrebbe essere barzagli potrebbe essere chi so io una buona parte invece va mandato a fanculo e potete anche insultarlo non c'è nessun problema si può anche insultare benissimo però signori gli svedesi non c'entrano nulla perché gli svedesi hanno fatto quello che dovevamo fare noi noi non abbiamo fatto un gol né all'andata né al ritorno ma maggior ragione manco manco un gol a casa nostra e siamo qua a dire che l'italia doveva andare al posto della svezia la svezia se l'è meritata ha fatto la sua partita quindi la svezia ha meritato di passare eravamo noi i coglioni i vischeri i grulli che non meritavamo di passare e non meritando di passare siamo andati a casa ci goderemo l'estate faremo le passeggiate faremo il mea culpa come nel 1958 che siamo rimasti a casa quindi signori miei la svezia non c'entra nulla io voglio fare questa diretta perché continuano a sentire insulti sugli svedesi la battuta ci sta anch'io ho messo il posto dell'Ikea eccetera eccetera però un conto è riderci sopra un conto come ho visto su youtube e su instagram offese pesantissime agli svedesi che non se lo meritano non se lo meritano perché loro hanno fatto quello che dovevamo fare noi noi non abbiamo fatto un cazzo né all'andata né al ritorno potevamo fare c'era potevamo non stiamo qua a dire ma forse c'era il rigore abbiamo preso la traversa non vuol dire una sega siamo una squadra di merda siamo partiti malissimo abbiamo pareggiato con la macedonia abbiamo fatto cagare con tutti dove vogliamo andare dove vogliamo andare ma ci fa bene stare a casa almeno riflettiamo dobbiamo ripartire da nuovo tutte le squadre la juve milan inter lazio roma fiorentina chi cazzo volete devono tornare a fare le giovanili per tirare su gente per farla nazionale non si può continuare ad andare avanti con chiellini barzagli e buffò quindi portiamo col bastone tra un po' li portiamo quindi signori miei ce lo siamo meritato non c'è niente da dire ce lo siamo meritato quindi per cortesia almeno i miei amici e i miei follower evitiamo di offendere gli svedesi perché veramente non se lo meritano assolutamente non se lo meritano detto ciò vi saluto perché io sono qua a cambiare le gomme ne avrò per un bel po' e nulla semmai farò un'altra diretta per salutare un po' comunque ora niente quello che volevo dire era questo qua perché ripeto youtube mi ha segato al video perché ieri ho messo anche due canzoni copri why i cazzi vari quindi me l'ha segato e nulla comunque la sostanza del video che ho fatto ieri era questa qua ho aggiunto il discorso degli svedesi perché continuo a vedere gente che insulta sti poveri svedesi che non c'entrano nulla non c'entrano assolutamente nulla assolutamente nulla ripeto volete insultare qualcuno insultate chi ha messo su tavecchio tavecchio alle ventura e coso e i giocatori se volete proprio insultare qualcuno detto ciò vi saluto buona giornata a tutti alla prossima